Da settembre e mezzogiorno in famiglia apparirà molto diverso rispetto a come lo abbiamo visto negli ultimi sette anni, quando al timone della trasmissione di Ray 2 c'è stato Amadeus insieme alla sua banda di amici e alla splendida Alessia Ventura. Il conduttore di reazione a catena, che già ha ricevuto parecchi complimenti per essere tornato al quiz game preserale, ha salutato e ringraziato il pubblico, gli autori, il regista e Michele Guardi per quelli che egli stesso ha definito sette anni meravigliosi, mentre Alessia Ventura vicino a lui versava qualche lacrima di commozione. Su TV storese e canzoni Guardi ha rivelato che il sostituirà Amadeus. Saremo di nuovo tutti insieme da settembre, ha detto. Cambierà solo la formazione di Mezzogiorno in famiglia, dove Massimiliano Ossini prenderà il posto di Amadeus affiancato da Manila Nazaro. Dunque il bravo e bello Massimiliano Ossini, che conduce tutti i giorni cronache animali, è pronto a tenere compagnia agli italiani nel weekend, a colpi di savoir-faire e preparazione che lo rendono uno dei conduttori più piacevoli del panorama televisivo nazionale. Accanto a lui l'ex Miss Italia 1990, Manila Nazaro, promossa a pieni voti dopo la gavetta sul piccolo schermo come inviata della trasmissione. Ora che ha finito di girare tutta l'Italia la scoperta di paesini e piatti da leccarsi i baffi, Manila raccoglie i frutti del suo successo e passa in prima linea.